La soluzione ideale per effettuare trattamenti antizzanzare in giardini e aree verdi di medie dimensioni in completa sicurezza. Automatico e programmabile, potrai posizionarlo facilmente nei punti strategici del tuo giardino o nei pressi della tua veranda. Scopri come impostare i nebulizzatori geyser da 12 e 4 litri e liberati dalle zanzare.